buongiorno amiche mie buongiorno da me e dal mio nuovo cambiamento buongiorno ho aspettato un po di giorni ne ho pensato un pochino prima di fare questo cambiamento da tanto quello volevo fare però i cambiamenti comunque anche se piccoli così fanno paura e sinceramente ho deciso di ieri e stamani sono andata e via tutti i capelli tagliati guardate niente sono contenta i cambiamenti fanno bene poi dopo l'intervento al seno per fortuna si è chiuso un cerco sto bene tutto a posto tutto bene tutto perfetto dopo due anni di patatrim patatrac casine robe sto bene e oggi mi sono deciso proprio di fare un cambiamento e eccomi qua mi siete mancati tanto questi giorni però veramente il lavoro mi sta prendendo un sacco di tempo e non solo il lavoro ma sto facendo delle altre cosine sì che è un po un problema comunque datemi insomma scrivetemi come mi trovate siccome mi trovate come mi trovate come mi trovate come mi trovate con il mi manca fare video mi manca fare le ricette ma proprio mi manca il tempo mi manca il tempo questa settimana sono un casinata ho solo un giorno di riposo in cui dovrò andare a fare controllo al seno ai seni e spero di riuscire a fare qualcosa comunque volevo condividere con voi una cosa bella 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 ho ricevuto un regalo bellissimo tatatata due giorni fa e credetemi che ho aspettato con volo so quello che c'è dentro qua è perché chi me l'ha regalato è una persona a me cara lo sa che io adoro questi prodotti li adoro leo o mi sa che ho già parlato di questi prodotti e penso con un camero mai sarà difficile certo sono stupido non cambiano idea ma quando una cosa di qualità e di qualità e ho ricevuto questo pacchettino e lo volevo condividere con voi condividere con voi e dirvi che secondo me ne vale la pena sono dei prodotti stupendi per la skin care prima di tutto adoro questi prodotti non testano sull'animale e per me questo è un wow una cosa bellissima e io ho già conosco gli e poda di questa vi voglio parlare e l'ho comprata penso un anno fa o due anni fa già ho usato i loro prodotti e li adoro le adoro le adoro uno dice vabbè ma sono costose questo che mi è stato regalato e costato 104 euro e dentro c'è tutto di quello che hai bisogno per io penso ma anche più di sei mesi quasi dipende da come lo usate insomma basta poco e vi volevo far vedere io sono contenta quanto le adoro perché non l'avrei comprato in questo momento però visto come è stato regalato e io sono stracontenta stracontenta guardate che bellino anche la scatola guardate tutta scritta velina e e non non testano sull'animale ed è bellissimo partiamo così come se dovessimo fare la skin care e partiamo con il loro burro struccante no guardate qua la bellezza di queste confezioni che cartoncino è tutto riciclabile ed è pazzesco il loro burro è spaventoso proprio leva tutto il trucco e non solo trucco la sera prima di andare a letto dopo una giornata che noi donne siamo stanche corriamo come delle matte puliamo prima con questo burro e viene via tutto il sebo in più si fa un bel massaggino lo adoro ce ne ho ancora un po di quello vecchio che ho comprato sul fondo del barattolo sì che questo è nuovo 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 adoro adoro e poda davvero e poi su tutti i barattoli c'è scritto perché le skin care un po in vari passaggi qui c'è scritto 123 su tutti sicché guardate è un buro veramente favore mamma mia mare ma impestata come fate piliare un colpo è passato qualcuno tipo la spazzatura hanno buttato tutto c'è tra po muoio con il nuovo luca andiamo fatemi un po campare guardate vedete si vede ma un po verdino dentro comunque io ce l'ho quello vecchio lo sto per finire poi faccio un video con tutti i prodotti finiti con prodotti bocciati e promossi e ve li fa vedere guardare questo balsamo provatelo tanto più che può da questo momento fa un sacco di sconti io la persona che mi l'ha regalato ma ha detto che era 40 per cento di sconto e vi dico quanti prodotti sono uno due tre quattro cinque sei sette prodotti e una crema notte in omaggio 8 cioè o due creme uguale ball penso ma loro si chiama voglio fare anche quella sai quella che legge l'inglese the calm balm si chiama comunque un buro è un buro non solo struccante ma anche per pulire il viso la sera ottimo amiche mi approfittate perché vabbè se 100 euro che se ne importa però se lo dividete in 6 7 mesi o quell'altro puro cielo da anno scorso sicché per dirvi vedete ottimo poi una volta fatto la pulizia con il loro puro si va a questo detersivo te bubble double bubble double vabbè insomma avete capito nemmeno io ma insomma si chiama così e guardate qua lo adoro questo qui fa anche un leggero esfoliante quando ci laviamo perché assa acido salicilico se non mi sbaglio sì ed è veramente ottimo ne basta poco 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 e lascia una pelle pulita sgrassata veramente ringiovanisce secondo me è ottimo questi sono dei prodotti giapponesi se non mi sbaglio si fatti in giappone sì se non mi sbaglio non corea in corea coreani non giappone coreani scusate sono così e io l'adoro posso dirlo che l'ho provato un anno fa e ancora scelme rimasto ancora un po di burro e un po di maschera resto le avevo finiti guardate qua e basta tanto tanto perché ne basta proprio pochino pochino io di solito mi faccio un bel massaggino con questa schiumetta perché poi quando lo vai a prendere diventa una schiuma pulisco bene il viso lo lascio un po agire sui viso amiche mie ed è quando sciacco il viso è splendido allora ho provato altri prodotti ho provato di tutto ma mi dispiace sì ci sono prodotti ottimi ci sono prodotti buoni ma mai all'altezza di epoda mai vi dico io sì uno di 100 euro si sono tanti vabbè ora me l'hanno regalati e va bene ma 100 euro se le dividi in sei mesi alla fine c'è fai una cosa meno che ne sono un aperitivo una cosa meno e questo però nella pelle nelle sente già di insomma ne risente tanto dopo aver pulito con questo si va ora ve lo dico se lo trovo per te 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 ora ve lo dico amiche miei voi come state state bene tutto bene io sono lavoro oggi vado di pomeriggio alle 4 e mezzo aspettate ora ve lo dico se lo trovo dopo aver pulito bene bene il viso si va a spruzzarci questo in questo spray routine strep step routine the mist house si chiama vabbè insomma questo spruzzino qui come lo chiamo io di epoda e dentro c'è anche acido ialuronico una volta che lo spruzzi ti rinfresca il viso ed è pazzesco a me piace tantissimo a un spruzzino quando hai spruzzato una volta ce l'hai già tutto il viso ripienzo ma pieno non importa spruzzare tante volte sicché amiche miei è ottimo per noi donne io vi do un consiglio perché non è che a me nessuno mi paga e nessuno mi dà niente cioè io vi dico le mie esperienze affinché insomma provate una cosa di qualità davvero sicché credetemi questo è ottimo cioè prima fatti il buro poi il detersivo insomma si chiama the bubble table questo che ha acido ialuronico ed è un spettacolo per la pelle veramente poi dopo questo si va al nostro siero siero loro io lo adoro allora ho trovato altri sieri voi sapete che io sono fissata con i sieri ma questo è il numero uno per me per me per me e io lo dico senza interessi senza niente sicché vi potete fidare provate questi prodotti veramente mettete lì piano piano magari anziché comprare troiaini in qua e le metti da parte comprate una volta e vi dura come faccio io tanto tanto ne basta poche poche gocce io all'inizio quando l'ho comprata mi ha durato poco perché veramente esageravo ci mettevo troppo ora le metto una goccia una goccia una goccia e lo massaggio basta pochino pochino perché concentrato ed è ottimo sono troppo felice ho aspettato questi giorni perché mi è arrivato due tre giorni fa se non mi sbaglio sì che ha aspettato amiche mie però mi sono scordato una di farvi vedere la mascherina perché dopo il buro struccante guardate c'hanno anche la mascherina detox alla vitamina c si chiama proprio c talks ed è anche questa ce ne ho un pochino e ve lo fu insomma mi è rimasta poco 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 dell'ultima volta che ho comprato amiche guardate vedete si mette sui punti dove avete la pelle più grassa dove avete il perfezione dove avete pelle grassa si lascia un 10 15 minuti e poi si sciacqua bene sì che ottima anche questa maschera mi piace veramente la confezione di epoda questo tipo di cartoncino e sapete cosa mi piace che la roba non è in plastica tutti loro diciamo tutti i loro prodotti sono un vetro non sono in plastica dopo tutte queste cose c'è la crema al giorno anche questa è ottima crema al giorno ne basta proprio due gocce guardate ad ora adoro loro confezione guardate un vetro proprio anno non c'è a volte uno diceva il prodotto è bello ma fa schifo di fuori questo è bello di fuori è bello dentro è bello tutto io veramente sono contenta penso con questi prodotti li userò per tanto perché poi li ho usati ho cercato magari di comprare roba un po diversa per provare ma alla fine veramente la mia pelle godi quando io questi prodotti faccio sta skin care con questi prodotti godi secondo me mi ringrazia tanto lo sento subito più luminosa più non lo so più rimpolpata ecco e questo crema questa crema qui è veramente ottima ma poi dura tanto 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 e poi c'è la crema notte anche una maschera non è solo una crema va messa e va lasciato la notte vedete anche questo mi piace nel colore tutto e questa volta c'era in offerta la seconda crema notte guardate c'è per questi soldi c'è stato un regalo è la prima volta che è successo praticamente in questa offerta c'era la crema non maggio non guasta mai non guasta mai sono troppo contenta davvero amiche mie se avete la possibilità veramente provate questi prodotti perché io ve lo dico proprio di cuore senza interessi senza niente sentirete la vostra pelle godere godere ringiovanire proprio dovete essere costante di fare questa skin care tutte le sere tutte le sere con il burro struccante mi raccomando prima burro struccante lavare con quest'altro tè bubble double mascherina detto guardate che belle queste confezze mascherina detox poi lo spruzzino che vi ho fatto vedere che insomma è ottimo all'acido ialluronico poi mettete siero e poi mettete la vostra crema la sera quella viola e di sera quella verde e di giorno provate in più e poi da mi ha regalato un pennellino guardate che carino vedete per mettere la masca detox ce l'ho già perché avendole avute già dall'anno passato mi sono rimasti un pennellino una spatolina per prelevare burro per non infilarci dentro le mani e poi guardate questa di e poda quando ti pulisci quando ti metti i burro massaggi questa lo mette in acqua calda e lo fa se pulisci il viso veramente una godura io sono troppo troppo contenta vi dico la verità c'è quando mi è stato detto come è stato regalato questa scatola con questi prodotti sono stata la più felice perché a me donne piacciono queste cose e siamo contenti di riceverle sì che uomini sappiate sapete da ora che regalare alle vostre donne cose utili cose utili amiche mie spero voi state bene ve l'ho già detto io vi volevo ringraziare a tutti uno a uno per il vostro sostegno per per i vostri commenti per le vostre belle parole calde veramente sono troppo contenta perché vuol dire che vi riuscite a vedere me comunque la persona che sono così come sono senza filtri senza oggi un po di trucco perché insomma volevo anche io fare un po la la gnocca la gnocca di un metro e cinquanta tre però quei tre fanno la differenza amiche non importa non voglio dire le solite menate nella botte piccola c'è vino buono perché tanto è ormai lo dicono tutte però io sono diversamente alta se che sono contenta così ringrazia dio per quello che mi ha dato e per tutte le cose belle che ho e ne ho veramente tante 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 la salute già è la prima cosa o le persone delle mie amiche carissime che a cui vuole un bene dell'anima sono splendide non sono tanti sono poche ma buone insomma e sono contenta sono felice e vi voglio ringraziare di tutto dirvi insomma vi auguro una bellissima giornata non sono abituata a schemi le tocco un continuo vi auguro una bellissima giornata vi auguro la serenità veramente la serenità è la cosa più importante del mondo cercate di stare di circondarvi di persone buone ve l'ho sempre detto e ve lo dirò sempre 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 perché dobbiamo circondarci dell'energia positiva l'energia positiva porta cose belle con la negativa porta rompimento di coglione detto tra me scusate la parolaccia ma quando ci voce lo figliole niente amiche spero a presto di fare qualche video di cucina con voi non lo so quando spero presto perché mi diverto tanto a cucinare e niente io sono oggi sono serena su contenta show show un chilo e mezzo o meno ma no perché sono dimagrita ma perché sono andate via tanti capelli vi ringrazio amiche mie amici miei perché shanky omini sicché ringrazio a tutti provate questi questi veramente questi prodotti per della skin care e poda perché veramente credetemi poi me lo direte insomma approfittate quando scegli sconti fate come messa poi non volete prendere tutto il chi da tutti i prodotti magari intanto iniziate con qualcosina e vedete come comunque voglio dire quando è per la nostra insomma per la nostra pelle per il nostro viso non dobbiamo essere tirchi poi sai ognuno fa come meglio crede niente amiche miei mi sono allungata 17 minuti come sempre io sono la chiacchierona nata una chiacchierona chiacchierò anche la notte vi mando un bacione mi comincio a preparare perché dopo devo andare anche a lavoro stasera devo portare ettori fuori insomma devo fare un po di cose se no vi mando un bacio un abbraccio e alla prossima bellezze ciao belle ciao belli